Anche quest'anno diamo inizio agli eventi collegati al Palio delle Contrade con una conferenza che invitiamo tutta la città domenica sera 20 agosto alle ore 21 presso la cattedrale in Duomo a Fano. Abbiamo studiato con gli amici della Cappella musicale del Duomo insieme alla diocesi e i beni culturali della diocesi un evento che possa raccontare le origini dei Malatesta e le origini della Cappella musicale del Duomo. È un evento per noi molto importante che è da inizio al Palio delle Contrade e quindi vogliamo invitarvi a partecipare perché ci teniamo particolarmente. Il concerto che ha curato la Cappella musicale del Duomo di Fano è dedicato soprattutto alla musica medievale e rinascimentale perché la Cappella musicale della cattedrale ha un legame forte con Pandolfo III Malatesta in quanto lui stesso fece dono alla cattedrale di un organo che ha dato il via e ha incentivato di molto le attività corali dentro la chiesa. La nostra partecipazione a questo evento riguarda soprattutto la presentazione di una tavola, la parte centrale di un politico che dovrebbe essere il politico che Pandolfo III Malatesta regalò alla cattedrale agli inizi del 400. Una Madonna con bambino, un lavoro interessantissimo, bello da vedere. Questi saranno gli argomenti che toccheremo, diciamo, oltre a cenni storici, che toccheremo nell'ambito della serata. Serata che avrà inizio alle ore 21 e 15 nella cattedrale. Grazie a tutti.